Fa 4, Do 4, La 3, Fa 3, Do 3. Ecco, queste sono le note che ho suonato in successione scendendo dal Fa 4 fino al Do 3. La particolarità per cui suggerisco questo piccolo esercizio è che queste note si prendono con il corno in Fa, intonato in Fa, il corno francese intonato in Fa, con la posizione 0, cioè praticamente a vuoto. Quindi potete divertirvi ad esercitarvi su queste note senza dover impegnare il cambiamento della viteggiatura. Grazie.